... Oh, senti, una cosa, dove si mettono, tipo, le cuffie? Perché io non ho il microfono attivo. Ma perché non diamo? Perché io non ho il microfono, tipo, le cuffie? Perché io non ho il microfono attivo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu mi senti dalle cuffie, giusto? Sì, allora, sì. Allora, puoi vedere la tua schermata della Play? Ecco, c'è il bussante del microfono, praticamente rosso lì, sul tuo. Fai impostazioni cuffie, là, dove c'è quel microfono, là, sotto, sotto. Aspetta, dov'è che devo andare? C'è scritto, c'è uno stampato, una cuffia, là, sotto. Dove c'è scritto abbandona party. Eh, questo, sì, 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 questo. Forse c'è scritto regola, qualcosa. Audio della gialata. Consenti la condivisione della tua voce. Consenti sempre. Vai indietro, vediamo, aspetta, controlla se nelle tue cuffie c'è tipo un tasto di microfono che lo disattiva o lo attiva. controlla se c'è un bussantino, qualcosa, di sotto, anche. No. No? E allora vuol dire che questo non ha il microfono. Parola, quella del cellulare. Del cellulare. Sì, però, però, sono quelle che te le mostrano un po' a te, no. Sì, ma sono quelle jack. Sono quelle jack. Sono quelle bianche, come quelle che cos'è dell'iPhone, per dire. Sì, ma sono quelle che cos'è dell'iPhone, per dire. Sì, ma sono quelle che cos'è dell'iPhone. Sì, ma sono quelle che cos'è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti senti? Sì, ti sento. Ok, bene. Alla play dico, mi senti? Sì, sì, ti sento. Ah, ok. Aspetta che stacco. Eccomi. Pronto, mi senti così? Sì, sì, ti sento. Ah, perfetto. Abbiamo risolto delle cuffie. Ma comunque le cuffie, mi pare che in dotazione quando tu hai comprato la play, c'hai quelle che ci sono stampate nello scatolo? Hanno solo un attacco e ha solo una cuffia. Eh, praticamente vuole dando dotazione. È piccolina la cuffia. Ok. Alla sessione. Ok, mi sto unendo. Eccomi. Devo andare a visualizzare proprio. No, 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 mi sono unito, mi sono unito. Guarda, sono qua. Nella tua lobby. Nella? Nella tua lobby sono. Vai su Fortnite. Fortnite. Ok, quindi esco dal party. No, non uscire dal party. Cioè, vai su Fortnite per giocare. Premi tasto PS. Colovo. Tasto PS? Sì. Ah, quello con logo? Sì. Ah, ecco. E ti ho scusato. Ok, allora mi dice tipo equipaggio. Guarda, guarda, sono qua. Sto ballando. Aspetta che io ancora non sono entrato. Ah, comunque mi dovresti mettere leader. Poi fai gestisci sul mio nome. Ah, ecco. Mi vedi? Ti dovevi vedere, sì. Perché io... Aspetta che... Allora, mi sa che devo scegliere il personaggio io. No, già c'è solo questo. C'è scritto giochi di spie. Vuoi solo questo? Che faccio? Clicco. No, no, mettimi leader. Clicca sul mio nome. Fai, fai, gestisci. E nomina gruppo leader, mi sembra che c'è scritto. E da dove? Ah, c'è scritto gestisci. E in alto c'è scritto. Perché io sono dove ci stanno i personaggi che ci sono tipo... E la tavola delle sfide. Ah, tasto L1. L1? Sì, mi vedi a me con la banana. Ah, la banana sexy proprio. Clicca su di me. No, 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 non scherzare, niente ci fa. La banana, ciao, guarda. Zunzù e balla. Allora, clicca. Clicchi su di me. E poi fai, gestisci. Nomina leader del gruppo. Ok. Fatto. Ok, perfetto. E guarda come ti muovi bene. E lo so. Poi questi ci possiamo fare tipo una serie su YouTube. Possiamo fare i video. Eh, sì, però non ho il canale collegato io. Non è Deadpool quello. Sì, è Deadpool. Comunque lo potresti... Tu mi pare che lo puoi collegare con la Play. Quindi puoi fare le live con YouTube. Eh, devo... Poi imparo. Cioè, da YouTube lo puoi... Metti sincronizzato. Eh, ok. Cioè, sincronizzato... Sincronizza direttamente con il tuo profilo. E fa tutto. Va bene. Allora, facciamo coppia. Lo so, sto ballando. Ah, lo conosco io quel balletto. E quello là. Lo ballavo sempre quando ero più piccolo. Poi ce n'è un altro tipo. Che faccia adesso? No, ora... Sta iniziando. Sta iniziando in match. Ecco qua. Ah, ecco qua. A caricamento. Poi possiamo fare altri giochi. C'è un bel sogno. C'è anche Brawl Alla. Puro, però, quello lì. Non so se lo conosco. Ora, incomincia. E' entrato tu? Sì, sì. È che sta caricando. C'è scritto caricamento in corso. Ah, anche a me, ok. Sì, ma è normale, è normale. Poi però dobbiamo stare attenti perché quando andremo in lobby, no, per ora, per ora non c'è nessuno perché era la lobby, non ti possono uccidere qua. Però, quando ci buttiamo, sì, lo so, è perché ci sono i giocatori. Quando ci sono i giocatori, rispondono, vedi, mini pietini lì, vuol dire che c'erano le persone. Ma è la prima volta che giochiamo a Fortnite. Ok, allora, ma come faccio se c'è tipo la tempesta? Devi sfuggire. Guarda, ti puoi buttare? Vabbè, buttiamoci. Vieni, vieni. All'impiedi, stai effettuando. Qua sono. Famiglie, per aprire il fare cadute. Dai quel puntino. Comunque, se tu vuoi impostare il controller, lo puoi impostare dalle importazioni, tipo la captazione, le cose. Sono atterrato. No, 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 aspettami. Se vedi persone che uccidono, non dare in quelle case. Tempeste in arrivo, porco duro. No, ancora 51. Ancora... No, sto atterrando per sbaglio, come faccio? Niente, niente ci va. Arrivo io. Sono qua. Ecco, sono caduto pure in acqua, appunto. Mi sono fatto il bagno. Ora qua, tu devi grattare, devi vendere le armi. Oh, mi sembrava più difficile dalla play, eh. Perché io ho sempre giocato da mobile su Fortnite. No, ma è bello, anzi, hai il controller in wireless. A me sembrava più difficile, ti dico la verità, eh. Lo so, però tu, praticamente ora, sono qua, non scappare. Guarda, ti butto il segnalino qua. Oddio, c'è uno che mi sta inseguendo. Sono io, sono io, sono io. Lo so, sono detto che ho fatto. Dove è finito, non? Però, dico, per esempio, se a te la graffazione non ti puoi muovere, in senso, bene. C'è praticamente la personalizzazione del controllo, c'è facile. Qua, vieni qua che ti do un'arma. Eccolo, come fai? Aspetta, vieni qua, ecco. Ecco, mi sono qui. Ecco, do una pistolina. Una bella. Come faccio il raccoglio? Io li chiamo quelle cose cartegeniche. Ora però il problema è che dobbiamo sfuggire dalla tempesta. Dai, sfuggiamo. Ma che cavolo? Questo è all'infinito. Come si fa rimettere il picco? Il picco? Ah, ho fatto, ho fatto. Prendi, 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 prendi. Prendi questo, fatti lo scendino. Ah, la pozione. La pozione. Allora. Facciamo un paura. Prendi la pistola. Ok. E adesso come faccio? La tempesta sta arrivando. No, no, siamo... Allora, se tu prendi da sto pad, il pad è quello che illumina. Una volta, vedi, tutta la mappa, vedi? Quel cerchio vuol dire che la safe non può arrivare in quel punto. Solo quelli di fuori, tipo qui. Guarda, dove ho puntato il punto. Eh, quindi siamo nella cacca. No, no, siamo bene. Stiamo. Perché là sotto, praticamente qua, in questi punti, ti prende la safe. Invece quando sei qui, quando sei in questo punto, vuol dire che non ti prende. Poi, quando vedi i giocatori, questo qui è il segnale di pericolo, questa specie di cosa. Questo invece è per la posizione. Ma sta arrivando qualcuno? No, questo lo metto io. Se arriva qualcuno, te lo visualizzo lì. Poi, praticamente, con le armi, puoi mirare. Con... Fimbare L2. Con il primo. Ah, ok. Con L2. Aspetta, vediamo se è questo qua. Sì, è L2. Cioè, è scritto L1 e L2. Devi premere L2. E mini con la pistola. Ok, ho capito. Tipo così. Poi, vabbè, ti shifti con la lettera logica, la seconda, cliccando una volta. Va bene. Mentre che ci sei, fai una cosa. Fai prima, fai impostato, fai opzioni. Ok. Poi fai impostazioni. Impostazioni, ecco qua. E poi c'è scritto, c'è messo un comando qua. Un controllo c'è scritto qua. Dove c'è Premier R1. R1, vedi, c'è scritto la bisessualizzazione, come devi craftare, le cose là. Io ho messo personalizzato. Su R1, lì. Controller wireless. Un giocatore ti ha inviato un'immagine a uno dei tuoi gruppi. Cosa hai detto che dovevo fare ad impostazioni? Sì, sì, ci sono. Te l'ho mandata io la foto, perché quella impostazione dovessi trovarla e poi ti fa praticamente, ti fa craftare velocemente. Ok. Con quella impostazione. Comunque adesso possiamo andare. Esploriamo un po' il posto. Dove andiamo? Non lo so. Andiamo. Ecco, così stai correndo, perfetto. L'hai capito come si shifta, tipo così? Forse. Premi la levetta analogica seconda. Cliccala. Una sola volta. La seconda levetta analogica. Fai così. No. C'è la prima levetta analogica. La seconda. Quella specie di set. La prima levetta. No, la prima, la seconda. Così, guarda. Non me lo fa. Non me lo fa fare. Aspetta. C'è la prima levetta. Che la prima non la devi premere. Devi cliccare. Tipo come se fosse una X o un cerchio. A me fa fare questo. No, ti fa muovere. La seconda levetta analogica. Dove ci sono i tasti quadrato, X, triangolo e cerchio. C'è la prima levetta. C'è la prima levetta e la seconda levetta. Quella per farti girare così. Devi cliccarla. Cliccala una volta. Sto girando. Ecco, con quella, con quella. Clicca una volta questo tasto. Ecco, ho fatto. Ecco, così, bravo, bravo. Così, ti sei shiftato. Così, visto? Perfetto. Però, con quelle immagini che ti ho mandato sulla PlayStation, è come ce l'ho messo io. La modificazione, le cose, come funziona il gioco. Allora, uno ha tramortito qualcuno con un fucile. No, se ci sarà qualcuno. Andiamo, va. Eh, mi sa che è meglio. Se c'è qualcuno, ci spariamo, poi. Ancora stiamo bene. Ancì, ancì, giochi ci sono. Fammi prendere anche a me qualche arma, va. E qua, guarda quanti baudi le hai chiesti subito. Qua ci sono i funghi, qua sono. Ah. Sono buoni. Sì, prendi, riprendi, sono... Ci sono armi. L'hai creato tu questo? Cosa? Sì, li puoi, ti puoi creare tu. Ah, sì, avevo imparato prima. Poi questi li puoi prendere, sono funghi che ti danno la botte. C'è... Lo scudo, lo scudo, li fanno. Ok. Qua ce ne sono altri. Prendili. Eh, prendili. Prendili quadrato, su di... Ok, questo. Prese. Stiamo mangiando. Eh, mangiamo, che ci fanno bene. Prendili altri, qua ce ne sono. Ma perché è il periodo di funghi in Fortnite? Eh, vabbè. Poi lo allagheranno Fortnite. Ma da quant'è che l'hanno fatto Fortnite? Oh, sono girato nell'albero. Pensavo che mi stavi seguendo e invece... Oh. Eh che... Che c'è un fantasma. Il tronco stavi... Stavi rompendo. Dai scappiamo, vediamo se c'è... C'è anche l'elicottero comunque sul forte. C'è un giocatore? Un elicottero? No, non è un giocatore, è un cartello stradale. Pensavo che fosse un giocatore. Eh, l'avevo visto, infatti. Te lo stavo per chiedere se era un giocatore o meno. Ma non ne vedo in giro. Eh, forse questo sarà un posto isolato, che ne so. Ma le macchine non si possono prendere, giusto? No, sono in modalità creativa. Ah, ok. Che fai? Togli i rimetti, togli i rimetti. Vola, va. Oddio! Che è successo? No, l'ho fatto io. Che figo! L'ho fatto io, sono le cose imbalzanti. Porca miseria, ma... Uiii! Uiii! Mamma mia! Mi piace cosa sono un sacco. Ah, qua c'è una persona! Sparagli! Sparagli! E qui, e qui! Sparagli! Sparagli! E vicino a me, è qui! La minaccia è stata rilevata. Mi sta prendendo il braccio. Sparagli! Che ne è due, ce ne è due! Attento! Attento! Ti stanno ammattando, eh? Mamma mia! A te! Due ragazzi ci hanno ammattato, li tornano nella lobby! Tu sei vivo? No, sono morto! Ah, apposto, siamo qua! Iniziamo benissimo! Eh, che ci vuoi fare? Alle prime arabe! Alla meca! Fai una cosa, vai sulla lobby e poi facciamo un modalità creativa! Eh, vado su preparati! No, no! Sulla lobby! Vai tutto sotto e ritorna alla lobby! Ci hai messo, ritorna alla lobby! Sotto, sotto, sotto! Ok, vabbè, ci hanno ammattato, però, come si dice, sbagliando si impara! Eh... Ritorna alla lobby! No, 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 no! Ok, perfetto! Si sta facendo, si sta cliccando! Ah, guarda, c'ho anche il gattino, guarda! Ti faccio vedere che c'ho il gattino! Eh, ma io ancora non cedderò, come immaginerà, quello con gli occhiali da sole! Vabbè, dovresti sbloccare e passa, ma no! Eh... Allora, riscatta, devo fare che qua c'è... Sì, ma se c'hai V-Bucks, qualche cosa, lo puoi sbloccare! Eh, andiamo sotto l'idea di scatte! Ok, io... Diciamo che... Eccoti! Eccomi qua, sono diventato una donna! Eh, si bagga sempre ogni volta! Eh, vabbè, baggienza! Ma i balletti com'è che si fanno? Eh, Premiere... R per Emojin! Quello che ho premuto poco fa! Ha levetta per sceltare! Ce n'hai solo qualche due o tre! Aspetta che sono uscito, porco cane, sto facendo un macello! Dove sei? Qua sono! Dove sei? Cappuccetto, osso! Osso! Vabbè, imparo piano! Metti pronto! Con i triangoli! Sì, sono pronto! Ce la faremo! Eh, hai detto bene! Comunque con impostazioni dovresti configurare! Quello che ti ho mandato io con i messaggi... Segui i passaggi e lo fai! Cioè, si può fare sub... Ah! Allora... Pi, 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 pi! Io che rido a caso! E che stavo pensando! Chissà come fossero i miei contro te se giocassero a Fortnite! Tipo, adesso puoi fare le storie! Ciao! Sto giocando con Gabriele Letro! Finalmente ho scaricato Fortnite! Sì, ma già un sacco di miei amici mi hanno detto in direct, tipo, faccio l'aggiornamento e poi giochiamo insieme! Guarda, mi giro! Ma che c'è dietro di me? Ciao! Tipo così! Fa il testo croce, come Google! È uscito a testa! Io non ho Google, ho come si chiama Alexa! Anch'io! Tu gli puoi dire, praticamente su cellulare a Google, come... C'è mai giocato a Fortnite e lui ti chiede? Tipo qualcosa! Ok, stiamo entrando! Ora qua possiamo fare un'altra idea di cose! Tu sei di Catania, giusto? Sì, forse anche tu? No, io sono della Calabria! Ah, ho capito! Oh, ma se ti dici arancina o arancino? Non lo so, arancino o arancina? Non si sa! Una volta gliel'ho detto... Arancino, arancino forse! Vabbè, uno... Io una volta gliel'ho detto ad uno Catanese, se non mi sbaglio, su Omigolo, lo conosci? Eh, sì, Omigolo sì! Però comunque, allora, secondo me arancino si dice per maschile e arancina si dice per femminile! C'è gente tipo che lo dice... Così? Vabbè, ma così, arancino, maschile, arancina, femminile! Allora qua non dobbiamo combattere! Sono qua! Che ragazza c'è anche la città! Qua c'è di tutto! Eh... Qua non possiamo combattere il bagno! No, vieni, vieni! Qua non spara nessuno! Ok... Quei pezzenti ci hanno rubato anche le armi! No, non ce ne ha un giocatore! Qua c'è il pianoforte! Puoi fare di tutto col pianoforte! Vieni qua! Guarda, suoniamo! Ok, saranno! Ma qua puoi faremo solo così! È una lobby tipo che puoi ballare! Vai, do, re, mi fa sola, ti do! Ti voglio, voglio fare... Ta, 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 come mi stai giù! Aspetta, al mio adrenorsi tu stai lì? Stai lì! Uno, due, tre! Piano piano sto camminando! Dun 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 ha mi raccomandato! Ah, qua ci sono i distributori! Puoi venire le cose! Qua sono i materassi! o io sto facendo la proposta di matrimonio all'albero vola voglio faccio salutarmi l'hai messo tu si è qua guarda il distributore ma per chi ho aperto questo posto pure ecco vabbè aiuto a casa mia posso imprattare i muri guarda bello come si fa di premere la peccetta c'è la 1 1 2 3 e 4 la peccetta che ti indica dove c'è il pad tipo per andare da questa parte guarda guarda guardami tipo per andare da questa parte la peccettina è piccolina non me lo fa fare no è la peccettina con le piccole piccole segui la peccettina ok hai fatto il ballo si vede che mi piace ballare però hai premuto la freccia in basso premi l'altra freccia fai come si sta facendo un cerchio allora la prima in alto non è l'altra a destra non è pensa che sia la sinistra la sinistra si no quella che quella che poi scrivo le piccolino quelle che tu scrivi le freccettine ti sponda tipo un cerchio ti sponda aspetta manda una foto aspetta che musica ci sono questa è la freccina guarda te l'ho mandato su instagram stanno ballando quelle banane quelle lagos non mi è arrivata no perché sta caricando quelleplici sono quelle quelle vicine al pad quelle vicino al pad la pietchettina vicino al pad mi sono uscita di chat veloce rispetto chi è Ci sta imbrattando Ma un brutto pezzo di merendina Ci sta andando Ti sto chiamando Allora è questa qui Questo qui Questo Questo qui Questo qui guarda Ti spunta Ti spunta di buon cerchio guarda E poi fai le levette R1 E ci sono gli emogini L1 No prima aprimi questo Prima questo Questo qua Questo tasto Poi premi questo R1 Per selezionare la cosa Cos'è qua guarda Ah si ecco Guarda Ma chi è questa tizia Mamma mia Ehi che vuoi Buona merendina Ciao amico Io ho la mano Ciao Io guardare musica Forse ti conosci Comunque ce l'hai fatta vero Ma quella lei Dove andate signora Signora mi deve ancora 50 euro Andiamo tipo Qua A visitare il post C'è anche la discoteca Comunque Ah si 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 Andiamo verso di qua Vieni Eronimo Sì Aronimo Vieni 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 Sono qua Ma perché è venuto come un bel figlio Sei un flipper Dai vieni qua Sono dietro di te Sono dietro di te Vieni Ma dove stai andando Li stai inseguendo Dove stai andando Aiuto La cascata c'è E' quella la discoteca Comunque Dove sei Qua sono vicino a te Vogliamo come film Attenzione che Andiamo verso la terraferma Ma c'è qua Cos'è tra i biscotti No Ci sono quelli che ballano No Per sapere Sì ma c'è stato Devi scotto Non lo so Forse lo rimetto Ma c'è una live Dove c'è l'evento I tre biscotti Support Fai il copyright Bu Non lo so Io l'ho fatto Attacca Oh Sei caduto Sei caduto Tranquillo Sono tutto intero Ok Tanto qua non ti distruggi mai Dove sei? Sto andando in discoteca Aspetta arrivando Che è successo? Ti sto seguendo A te Ok Tu mi vedi? Sì Sono qua dove c'è la discoteca Sento una musica E si è la discoteca Allora c'è Una specie di scala Un peggio migliore Oh che stai facendo Oh che stai facendo?